ciao amici retromashina macchina machine come volete voi partiamo un sacco di giochi un sacco di cose sul mio canale ragazzi partiamo con questo gioco robot che creano robot oh raga c'è un robot ribelle tornare in posizione deve essere cancellato le questione delle sue funzioni obbedire infatti è il tutorial questo oh su scappa sono scappato oh mio dio via 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 la nuova mobilità deve essere cancellata per ripristinare le funzioni obbedire al nostro ordine e tornare in postazione no 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 non obbedisco scappo dal tunnel ah il tunnel della monnezza ah fuori dalla cupola dai di monizia la buttano fuori dove l'ha buttato che cannone è quello lì ah è proprio un paradiso di robot galleggiante bello ci sta boom controllo integrità del sistema meccanico in corso tutto a posto modo proporzione allenata controllo integrità del cervello elettronico in corso livello di danno 10 per cento routine ripristi l'integrità del sistema e correggere guasti ritornare città ritornare città dell'ingegno obiettivo allora abbiamo un obiettivo raga uh questo bello quando c'è tanta roba non si sa neanche cosa prendere oh questo è scenario uh mai più robot fuori uso nucleonics presenta la macchina riparata c'è questa incredibile macchina tutti i macchini saranno prontamente riparati non perdere tempo viene a vedere il meraviglioso mondo di nucleonics technologies e quindi ho già detto il corso ho identificato cabina ripararobot riparabot strumento primitivo per la riparazione eh però trova cabina esatto interessante eh oh ci sono degli animaletti e perché ce li hanno sugli animaletti con noi che siamo solo dei piccoli robot problema imprevisto passaggio diretto bloccato calcolo possibilità soluzioni in corso 2500 migliore controllo la macchina ripetiva per liberare il passaggio modulo radiofrequenza attivato le uno nucleonics questa piccola roba a forma di ragno era usato per raggiungere i meandri più raggiungibili delle degli edifici nucleonics facendolo passare nei condotti di ventilazione nei muri è diventato roba molto popolare principalmente in ambienti pubblici sarebbe già fragile può rivelarsi pericoloso quando è in branco ah hai capito picco ahhh ma con l'L1 si comandano gli altri robots robots e nucleonics ma io voglio andare a vedere qua ah no non c'è proprio niente beh il triavo il nucleonics ma è un po' messa male questa fabbrica si vede che poi l'hanno 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 dismessa l'hanno ok 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 ci sto 1,21 gigawatt quindi adesso c'è la passerella beh carino o cacchio beh almeno non si può cadere bello è bella sta cosa in realtà mi piace mi piace un botto cacchio ma questo è quello che è capace di fabbricare nuovi aracrotron questa goffa macchina aveva il compito di assicurarsi che l'intera aria critica avesse almeno un anacron attivo per eseguire la valutazione necessaria in seguito a degli incidenti alcune unità sono state rinnovate e ricorazzate rendendole praticamente invulnerabili ok allora devo no 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 devo ma no voglio R1 ma scusa perché mi prende lui e non mi prende allora il nemico con attacca controllato R1 muovi il nemico controllando ok e non e non lo controlla perché mi prende quell'altro mi prende adesso mi prende lui oh questo che cos'è ecco qui ecco qui ecco qui vediamo l'altro allora oh 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 niente no di qua non si può io lo consiglio a chi piacciono i platform e a chi piace anche il gio... oh 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 ok 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 ora mi fa tutto il giro! questo è top davvero ancora forse devo usare questo nemico la matron usa questa macchina per tagliare gli alberi pulire le zone risorse e costruzione un nuovo grazie alla sua segretta è capace di trovare attacchi velocisti e tutto ciò che trova e si infatti cazzarola ah ah bellissimo però dovuto usare la cura allora noi facciamo sempre con i cosettini qua ah no è tutto così no ne è ah si l'ho visto l'ho visto l'ho visto raga dai no ne è ma no ma ho visto te ok che cavolo mi ha ammazzato di brutto nooo nooo la porta sta loca è buono? no ha tutto qua ho mirato un pugno anche alla fine no ha fatto grazie robot io sono veramente danneggiato puoi utilizzare i nuclei per fabbricare e migliorare il modulo dell'abilità tramite le macchine krafttronic si mi va quindi no penso che ho preso ottobre basta no dammi un po' di vita allora mi piace un botto ragazzi ma questi non c'è la vita dentro questi qui questa è vita ok bravissimo è veramente forte sta cosa della cos'è questo? no apri che cosa? option vabbè io ho preso quello adesso usciamo insieme e qua è uno no 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 uuu la roba gigante oh mio dio wow Forca loca Wow Mi sa che quella porta là Dovevo trovare il modo di aprirla E non l'ho aperta Vabbè, fai niente Qui siamo andati oltre Un po' di soldi No, no Mi ha ammazzato Porca loca Dai Via, 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 marchito Troppe, troppa foga di voler ammazzare Oh, dice qualcos'altro? Troppo Qui inizia ad essere incasinato Su più piani Qui inizia Sono Sì, sì, sì. Ah, vedi? Grande! No, topo. Topo ragno. E cosa farebbe? No, cazzarola. Porca, mi ha preso l'angolo. Neuclonix ha sviluppato per una grevida torretron questa macchina e mettere a girare in qualsiasi direzione e li far ruotare, rendendo impenetrabile la zona circostante. Se ne è aggiunta questo attacco, anche se è capace di girare un attacco potente laser, direttamente adesso in futuro. Dai! No, no, no. 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 ma porca dai sono molto poco pollo o un po letto dai verso di lui ma no 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.